Scusa, 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 scusa. Sì, dimmi. Madonna mia. Ti posso invitare a cena? Ma, scusami, sei? Tu non ci pensare. Ma guarda, effettivamente un po' di fame ce l'ho. Scegli tu. Questo. Scarne. Io preferivo pesce, veramente. Scegli tutto quello che vuoi dal banco o ci penso io? Allora voglio questa, decisamente questa. Sì, sì, sì. Sinceramente è meglio comprarti un vestito che portarti a mangiare. Però se ti devo fare mangiare di russo a sto punto ti porto da Bras. E quindi subito super tipon di Sashi Biff. News Red level. Io ogni volta che vado da Bras mi sento un fliston. Tiè, guarda che classe, è tutta Wilma. Con la parrucca rossa era spiccicata. Questa carne, ragazzi, era come il sashimi. Tenerissima. Ma in tutto questo dopo esserci spuppati pure i piedi e i tavolini. Io però c'è ancora un po' di fame. Aspetta che ha tappesso su. In bottino di radicchia e miele. E pupittuzza di cavado. Oh, sono disesaziata così, guarda che mi devo andare a fare le cambiali. Quindi convieniti.